a wonderful buongiorno ragazzi a porco di la madonna di cristo oddio com'è questo nuovo telefono bu pare che a porco di us pare che c'è un pannello sopra non lo so so io che ci vedo appannate vabbè comunque si è tutto un appanno ragazzi buongiorno e grazie per tutte quelle cose che mi avete detto perché io ho intenzione di lasciare il web magari non chiuderlo però lasciarlo un attimo sospeso perché io devo veramente concentrarmi a ad altro perché voglio fare questo centro d'ascolto nel web non ci non è che io diciamo se devo fare questo progetto io ho voluto sensibilizzare la sindrome turrette voglio sensibilizzare però sempre rispondere mi fai ridere se simpatica cioè non mi porta a nulla perché comunque non è la io non voglio essere un personaggio io voglio essere una persona voglio sono una persona che sta parlando tramite altri cioè mettiamola così a porco dio i capelli down è troppo schiacciata sta parlando attraverso persone che magari non hanno il coraggio di uscirne persone che mi chiamano persone che mi dicono Sabrina io ho la turrette ma non riesco a uscire come te perché mi vergogno e tutto qua a porco dio e la madonna cioè per questo cioè proprio mi scazzo pure i denti vabbè però quello che mi dà fastidio che comunque inevitabilmente doveva succedere e questa cosa sì della grande affetto il grande affetto mi fa piacere mi fa piacere non mi sganasso pure però ecco del personaggio quello trash mi dà fastidio perché io ho tante persone e mo ve lo dico che mi chiedono mi fai gli auguri per compleanno mi dici cioè io non ho bisogno di queste cose fare gli auguri per il compleanno andate da un dj famoso e ve li fa perché per le tinga fa egli auguri per il compleanno in diretta ma io te li faccio con un pensiero perché comunque hai fatti i compleanno mi fa piacere ma in diretta ma c'è che ma chi stiamo scherzando in diretta faccio i auguri per il compleanno poi un'altra cosa io non capisco perché certa gente mi sono arrivati molti video e mi dicono che hanno fatto che poi io sul web non ci capisco a porco dio non ci capisco tanto perché comunque vedi faccio i video alla alla buona non è che faccio mi hanno detto comprati quello comprati quell'altro ma che mi dica compra picciuto e lepre faccio video insomma non è che devo mettere gli effetti speciali e quando e quant'altro e mi hanno mandato molti video che mi associano a un personaggio che sta sul web io non voglio fare i nomi perché comunque non mi piace cioè la signora faccia quello che fa ma quella non c'entra niente io vi esorto a voi ragazzi non mi associate alle altre per a porco dio e i capelli da luce non mi associate a altre persone perché una persona fa una cosa io ne faccio un'altra cioè non potete associare la a porco dio la malattia con chi comunque fa un sito di intrattenimento peraltro perché è veramente scorretto è veramente deleterio è veramente umiliante perché io che stingo a parlare della sindrome turrette che mi ha colpito da quando ero bambina a essere associata zia sabrina zia sabrina a me mi chiamo i miei nipoti zia sabri e zia quell'altro personaggio cioè che cazzo c'entriamo uno con l'altro non non è un connubio capisci perché quando si devono fare le associazioni filmati le associazioni di dei si fanno con un certo criterio cioè uno prende una persona due poeti prendi aldamerini e che ti devo dire e d'annunzi oppure aldamerini emily dickinson e fate un video prendi tell me louis prendi merlin morrow e scusate è un'altra attrice cioè vabbè qua sopra ci sta ecco la merlin poi qua sopra che ci sta ci sta eccolo qua e sofia loren cioè non associate cose che non c'entrano un emerito cazzo perché io non sto facendo trash ok quindi le associazioni non mi piace e poi mi dite pure che io devo fare collaborazione perché comunque faccio più visualizzazione allora ragazzi io non devo fare visualizzazione a me i numeri non mi sono mai piaciuti nemmeno la matematica e niente io devo fare cose concrete perché se io c'ho i numeri non dico la sostanza che cazzo ci faccio cioè io non devo avere i numeri a me non mi interessa io sto bene il mio non devo guadagnare con youtube se youtube mi dà qualcosa mi ripi perché non sono stupida come gli altri se lo prendo lo prendo pure io ma sinceramente non è che ci campo cioè io campo con la pensione e se tenesse a spettacoli che mi da youtube mi moro di fame sicuro perché io non ho bisogno di visualizzare di ingrandire io ho bisogno di concretizzare questo mio sogno che è il centro d'ascolto quindi vi ripeto se qualcuno vuole darmi una mano si faccia avanti se qualcuno di abruzzo conosce qualche casa dove si può istituire se qualcuno mi vuole dare un aiuto in questo senso è bene se no ridere scherzare va bene pure però fino a un certo punto il mio sogno è questo il mio obiettivo è questo lotterò fino alla fine dei miei giorni per questo ciao a tutti